Buonasera, questa sera parliamo della nigrina lamellare, mi sono arrivate tante richieste, facciamo seguito al nostro pezzo sulla GP e passiamo a questa polvere, che è una polvere a cui sono particolarmente affezionato, perché l'ho utilizzata veramente tantissime volte a caccia ed è una polvere che mi piace molto, mi ha dato sempre dei grandissimi risultati. Un po' di storia, la nigrina lamellare è la prosecuzione della nigrina granulare, una polvere che era appaiata alla cappina, che era nata alla fine del 1800 e che è andata avanti fino quasi al 1930, anno in cui appunto è apparsa la sua versione lamellare. La granulare era una polvere abbastanza povera, ottenuta con delle nitrocellulose abbastanza povere, a basso titolo di asoto, con tantissime fibre grese ancora dentro la polvere finita, con tutte le limitazioni che avevano queste polveri alla nitrocellulosa non gelatinizzata. Ulisse Malfredi nel 1929 fa la MB, nel 1930 decide di fare un'altra polvere sulla stessa tipologia della MB, dandogli le caratteristiche più adatte per fare una cartuccia intermedia da caccia, che è la nigrina lamellare. La nigrina lamellare va avanti fino ai nostri giorni, ottenendo dei buoni successi. Inizialmente, all'inizio degli anni 30, non dei successi grandissimi, perché la MB le ha fatto ombra per tantissimi anni, bisogna essere molto schietti, molto sinceri. Poi però, quando c'è stata una distinzione anche a livello di caccia delle varie polveri, si sono cominciate a chiedere cartucce con 32 grammi di pallini, non necessariamente potenti e prestanti come quelle che si facevano con la MB, la nigrina lamellare, come anche la GP, ha avuto il suo spazio, si è ritagliata la sua nicchia d'uso. Era una polvere, ad esempio, utilizzatissima, quella di Emilia Romagna, dai cacciatori di Allodole. Era una polvere che loro utilizzavano moltissimo. In quelle mattine di ottobre terze, con quella luce gialla tagliente, in cui le Allodole arrivano sul gioco e trilano in cielo, la nigrina lamellare nei suoi bossoli color vinaccia è sempre stata una delle interpreti principali di queste bellissime mattinate. Che cos'è oggi la nigrina lamellare? Oggi la nigrina lamellare è una polvere per 32. È a tutti gli effetti una polvere per 32. Perché? Perché nell'assetto che noi conosciamo, quello solito, bossoli in plastica, borri in plastica, stellare e un Innesco forte, quindi un CIS 2000, un 616, con una carica di 1,60x32, la nigrina lamellare ci dà una cartuccia strepitosa. Ci dà una cartuccia che fa 395 ms alla V1 e che ci dà 620, 630 bar di pressione. Perfetta. Cartuccia che dà delle rosate ottime, che si comporta benissimo sempre, a prescindere dall'umidità e dal freddo, perché non risente assolutamente delle variazioni climatiche, e che possiamo utilizzare anche con una forbici leggermente più ampia, però di 32 grammi. Perché ad esempio nel 1270, in plastica, plastica, stellare, con l'Innesco forte, noi possiamo tranquillissimamente caricare da 31 fino a 33 anche 34 grammi di pallini. L'ho utilizzata anche a Colombaci con i 34 grammi. Portando la dose a 1,70x34 abbiamo una cartuccia un po' robusta, cartuccia da 700 bar con 405 di velocità, ma vi assicuro che al palco ho fatto delle fucilate strepitose. Con l'or rotondo la nigrina lamellare vince tutte le sfide e arriva alla soglia dei 36 grammi, ma ci arriva la grandissima signora qual è. Ho fatto una cartuccia l'anno scorso per soddisfare le richieste di alcuni amici e nel bossolo da 70 in oro rotondo con la dose di 1,80x36, avendo solo l'accortezza di utilizzare un Innesco medio, non forte, quindi un 686, un CX1000, abbiamo una cartuccia stupefacente. 700 bar e 402-403 di velocità in canna cilindrica, quindi 410 in canna full, cartuccia che fulmina, fagiani, lepre, cotorne e starne in una maniera veramente da vedere. È una polvere, come tutte le altre maschiere, di prim'ordine e quindi si presenta e si conferma sempre un grandissimo propellente. Parimenti al 12 anche nei calibri inferiori la nigrina si può utilizzare con degli ottimi risultati. Avremo nel 16 nel bossolo da 70 con l'Innesco media potenza una cartuccia perfetta con 27-28 grammi di pallini, la dose grossomodo è di 1,35x1,40. Abbiamo nel calibro 20 sempre con il bossolo di 70, con l'Innesco medio e con la Stellare. Abbiamo una dose di 1,18x25, 24-25, cartuccia veloce, cartuccia particolarmente efficace che dà degli ottimi risultati anche ad autunno inoltrato e all'inizio dell'inverno. Nei piccoli calibri diciamo che diventa la polvere più normale, perché nel 28 la nigrina almelare ci consente di caricare i 18-19 grammi di pallini, 0,90 con 18-19, orlo tondo sul bossolo da 65, borrachini in plastica, abbiamo una cartuccia costante che sicuramente funziona benissimo, a cappanno ci darà degli ottimi risultati. Nel 32 facciamo la cartuccia più classica del mondo con i 14 grammi, dosaggio di 0,75, sempre innesco medio quindi un 615, orlo tondo sul bossolo da 65 o da 63,5 e abbiamo una cartucina perfetta. Nel 36 chiaramente dobbiamo accontentarci della cartuccia con 10 grammi, nel 36 facciamo una bellissima cartuccia 10 grammi con la dose di 0,50x10, la borrachini in plastica e l'orlo tondo. Polvere onesta, polvere che non ha delle pretese assurde, ma che quando viene utilizzata nel suo range vedrete che dà degli ottimi risultati. Vi consiglio di provarla a Lodole perché è stata la sua destinazione elettiva per tantissimi anni, quelle belle mattine che aspettiamo per tutto l'anno, in cui siamo nel capanno frementi e sentiamo il trillo, il primo branchetto arriva sul gioco, inizia a danzare sul falco, sulla civetta e sullo specchietto e ci alziamo e vediamo queste bellissime farfalle color ocra che svolassano davanti a noi. Provate a sparare la nigrina lamellare, darà dei risultati superlativi. Io sono stato veramente molto molto soddisfatto in questa caccia con questa polvere. Provatela e poi mi saprete dire. Ciao ragazzi!